Una rivelazione sconvolgente è quella fatta da Luigi Strangis ad Amici. Il cantante, uno dei nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi, si è aperto col suo insegnante Rudy Zerbi e ha raccontato ho il diabete e lo stress inflisce sulla glicemia e su tutto. Ecco perché poi ha detto che preferisce sempre evitare di affaticarsi e sceglie spesso di prendere le cose in maniera più leggera. Cerco sempre di lasciare andare. La confessione è arrivata dopo che Luigi è stato accusato di essere uno dei peggiori tra gli allievi per quel che riguarda la pulizia e l'ordine della casa. Zerbi allora lo ha richiamato e ha detto che spesso lo vede prendere troppe cose alla leggera. Luigi a quel punto è scappiato a piangere e ha raccontato tutto confessando di avere una malattia. Il suo racconto ha colpito molto l'insegnante di canto che evidentemente non ne sapeva nulla. Rudy ha subito cambiato atteggiamento nei confronti dell'allievo ed è passato a toni più morbidi. In un secondo momento infatti Zerbi gli ha detto visto che sei una persona che ha una sensibilità e un valore artistico cerca di non giocarti a questa occasione e Luigi ha subito promesso di impegnarsi di più. So che devo dare di più e non ho dato il massimo. Non me ne voglio andare. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.